Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi un nuovo video. Vi ricordo che se avete piacere potete anche seguirmi su Instagram e vi ricordo che sono attiva anche su Facebook, vi lascio il link nell'info box. Detto questo, diamoci dentro col video. Ossessione, ferocia e imprevedibilità. Queste le oscure caratteristiche che descrivono l'assassino di cui parliamo oggi. È il 2010 e ci troviamo a Caponda, la più antica città mineraria dell'Australia meridionale, dove i turisti si recano per esplorare le cave o visitare il grazioso centro arricchito da murales e monumenti storici. Questa piccola località rurale è situata a nord di Adelaide e conta poco più di 2.900 abitanti, dunque le persone che scelgono di vivere a Caponda preferiscono la pace e la tranquillità al trambusto e alla frenesia delle città. Quasi tutti i residenti si conoscono e sono sempre pronti a darsi una mano l'un l'altro. Anche se la città di Adelaide dista solo un'ora di macchina, la maggior parte degli abitanti di Caponda e dei villaggi circostanti è quindi ben contenta della vita di campagna. Del resto, il tasso di criminalità di questa zona è davvero basso. È considerato un posto sicuro in cui vivere. Almeno fino al 2010. Infatti, la mattina dell'8 novembre di quell'anno, la polizia di Caponda riceve una chiamata proveniente da una casa situata in Harriet Street, dove si segnala la scoperta di tre cadaveri appartenenti ai membri della famiglia Rowey. Andrew, sua moglie Rosemary, detta Rose, e la figlia adolescente, Chantelle. Un vicino afferma che, ore prima, aveva già avvertito delle grida di aiuto, ma le aveva ignorate perché pensava si trattasse di una comune disputa familiare e riteneva inopportuno in mischiarsi. Solo ora si pente di essersi astenuto. Infatti dirà, avrei dovuto chiamare subito la polizia. In ogni caso, a Caponda, soltanto due poliziotti lavorano a tempo pieno. Prima d'ora, nella cittadina non si è mai verificato un omicidio e avviare un'indagine di questo tipo risulta un compito arduo per i due agenti. Il poliziotto che ha risposto alla chiamata ha chiamato subito l'ambulanza nella speranza di riuscire a trarre in salvo almeno una vittima, ma i paramedici, giunti sulla scena del crimine, confermano che è troppo tardi. Tutti e tre i membri della famiglia Rowey sono già deceduti. La polizia locale sa che questo caso ha una portata considerevole, si tratta di un triplice omicidio, e chiede la collaborazione del servizio di polizia del South Australia. Il detective John Keen, che entra nella casa di Harriet Street, la descrive così. Sembrava un mattatorio. Lo avevamo intravisto dall'esterno. C'era sangue ovunque in quel posto, nella camera di Chantel, in fondo al corridoio, in cucina, in tutta la stanza sul retro. Era sui pavimenti, sui muri, proprio dappertutto. Gli investigatori forensi si fanno strada attraverso questa scena del crimine raccapricciante, dove il sangue, oltre a ricoprire il pavimento e le pareti, macchia perfino il soffitto. Trovano poi le tre vittime, che sono state assaltate in casa propria e pugnalate a morte con estrema brutalità. Il corpo di Andrew Rowey viene trovato in cucina. Sua moglie Rose è riversa a pochi metri dal marito, nel soggiorno vicino alla porta sul retro della proprietà. La figlia Chantel è stata aggredita nella sua stanza, sul letto. Chantel, o Shanny, come era affettuosamente conosciuta, a detta di tutti aveva ereditato fin da piccola le abilità umane dei suoi genitori. Era estroversa e socievole e aveva molti amici. Una zia ricorda che Shanny si arrabbiava molto se notava che altri bambini erano vittima di bullismo e li difendeva sempre. Chantel, comunque, non è figlia unica. Ha un fratello maggiore di nome Christopher, che proprio nel 2010 era andato via di casa, ma si era trasferito nei paraggi. Vive infatti con la sua ragazza alle spalle della casa dei propri genitori. Tuttavia, nel momento in cui la sua famiglia viene uccisa, Christopher è in vacanza nella Gold Coast, nel Queensland, sulla costa orientale dell'Australia. Purtroppo, tramite il telegiornale, apprende una notizia un po' vaga su un evento tragico accaduto proprio nella sua zona. Dal resto, la polizia non ha ancora annunciato chiaramente che si tratta di un caso di omicidio. Tuttavia, Christopher, preoccupato per i genitori e la sorellina che non gli rispondono al telefono, pubblica uno status su Facebook, chiedendo agli amici di fargli sapere se la sua famiglia sta bene. Un contatto gli scrive rassicurandolo, ma in realtà ha commesso un errore. Si è confuso sulla casa in Ariad Street, in cui è avvenuto l'omicidio. Christopher, quindi, intanto si tranquillizza, ma poco dopo apprende la devastante verità. Ogni membro della sua famiglia è morto. La polizia deve comunque indagare Christopher come potenziale persona di interesse, ma lo esclude presto dai sospettati, visto che al momento del delitto il ragazzo si trovava a ore e ore di distanza. Ma ora parliamo meglio della famiglia Rowey. Andrew aveva 45 anni, sua moglie Rose 44, la figlia Chantel 16, mentre il figlio maggiore Christopher, l'unico sopravvissuto, ne ha 23. I Rowey non erano originari della cittadina in cui sono stati uccisi, avevano lasciato Adelaide e si erano trasferiti a Caponda a metà degli anni 2000, prendendo in affetto la casa in Ariad Street. La famiglia era ben voluta dalla comunità. I Rowey erano considerati brava gente. Andrew in realtà era nato in Inghilterra, ma era emigrato in Australia quando aveva solo due anni. Viene descritto come una persona semplice, gioviale, che ama socializzare e passare il tempo con gli amici. Andava a pescare o organizzava delle grigliate. Per Andrew ogni momento era buono per accendere il barbecue. Andrew aveva incontrato Rose tramite suo fratello e si era riscoperto, simile a lei, per il suo carattere vivace. La coppia si era sposata all'inizio degli anni 80. Christopher era nato nel 1987 e Chantel nel 1994. Andrew aveva avviato un'attività improprio. Gestiva un'impresa di polizia di tappeti. Rose invece faceva la casalinga e Christopher racconta che con lei era impossibile annoiarsi. Era una donna davvero tanto divertente. A proposito di Chantel, Christopher rivela che la ragazzina non vedeva l'ora di compiere 18 anni per poter uscire con il fratello maggiore e i suoi amici. Christopher aveva intenzione di insegnarle a guidare una volta tornato dalle vacanze nel Queensland. Insomma, i Rowey sembravano una famiglia normale, felice. Ma allora perché qualcuno ha deciso di ucciderli e in una maniera così feroce? Mentre la casa della famiglia viene perquisita, i corpi di Andrew, Rose e Chantel vengono sottoposti all'autopsia. Come detto, la causa della loro morte si riconduce alle numerose coltellate inferte. Andrew Rowey è stato pugnalato, squarciato e tagliato 29 volte su tutto il corpo. Sua moglie Rose ha subito 50 coltellate in due differenti attacchi, mentre Chantel riporta un totale di 33 colpi. Inoltre, come stabilisce il medico legale, la poverina durante l'aggressione è stata anche vittima di molestia intima. Di sangue sparso in tutta la casa è indice di una lotta molto violenta tra l'assassino e le sue prede. Tutti avevano cercato disperatamente di salvarsi la vita, soprattutto Andrew e Rose. La polizia ipotizza che l'omicida non fosse un estraneo per la famiglia. Chiaramente nutriva molta rabbia nei confronti dei Rowey, voleva causare loro tanto dolore, desiderava che soffrissero. Aveva quindi affrontato così una questione personale. La polizia chiede a Christopher chi, secondo lui, poteva avercela così tanto con la sua famiglia, ma il ragazzo risponde che non ne ha idea. Per quanto ne sa, i suoi cari non avevano nemici, quindi gli agenti cercano di elaborare altre teorie e individuare dei potenziali immoventi dietro le mosse del colpevole. Non sembra si tratta di una rapina, perché nell'abitazione non manca nulla, sono ancora presenti computer, macchine fotografiche e cellulari. Poi alcuni cittadini ipotizzano che Andrew, proprietario di una moto, facesse parte di una banda di motociclisti che vendeva delle sostanze in zona. Si tratterebbe quindi di un crimine legato a questioni di stupefacenti? Forse Andrew doveva saldare un debito con qualcuno di molto pericoloso e costui gli aveva fatto pagare la sua insolvenza, ammazzandolo insieme alla moglie e alla figlia? In realtà no, questa teoria porta presto a un vicolo cieco, perché la famiglia Rowey non era coinvolta in niente del genere. Sì, Andrew possedeva una moto, ma non era affiliato a nessuna banda. Quello di fare passeggiate solitarie tra le strade di campagna intorno a Capunda, a bordo della sua motocicletta, era semplicemente un hobby. Un'altra maldicenza diffusa in giro era che la sedicenne Chantel fosse rimasta incinta e che questo fatto costituisse in qualche modo un movente per l'omicidio. La voce si diffonde in lungo e in largo e alcuni giornali la riportano come se fosse una notizia accertata. Ma per fortuna gli investigatori non danno spazio a pettegolezze inutili e concentrano la loro attenzione su dati reali. Del resto, i dettagli dell'autopsia indicano che Chantel non era incinta e che probabilmente questo crimine è scaturito da un movente intimo. Secondo questa teoria, quella notte l'assassino bramava soltanto di approfittarsi di Chantel. Aveva ucciso i suoi genitori per eliminare un ostacolo e infine anche la ragazza su cui si era avventato, per evitare che lei lo denunciasse alla polizia. Alcuni detective bussano alle porte delle case del vicinato e chiedono informazioni, nella speranza di ottenere dettagli utili per la risoluzione del caso. Un indizio interessante lo ha già fornito un cittadino che ha effettuato una chiamata anonima alla polizia e ha riferito di essersi imbattuto in un post recente che un suo contatto ha pubblicato su Facebook. Uno status dal contenuto allarmante. L'utente aveva scritto Ho fatto qualcosa di veramente brutto. Mi dispiace davvero molto. Non so come farò a convivere con me stesso. Forse c'è un collegamento con l'omicidio della famiglia Rowey? L'assassino sente di avere la coscienza sporca e sta offrendo una sorta di confessione? La polizia vuole approfondire questa pista e identifica l'uomo che ha scritto il post, il quale vive abbastanza vicino alla casa dei Rowey e conosceva i membri della famiglia, anche se non è chiaro quale fosse il suo legame con loro. Il sospetto viene convocato interrogato, i detettivi gli chiedono spiegazioni riguardo al suo post su Facebook. A cosa si riferiva? Lui spiega che si sentiva in colpa per una discussione avuta con un suo familiare, niente di inerente al caso dei Rowey. La polizia lo reputa sincero e dunque lo esclude dalle indagini. Visto che anche la pista dei social network fa un buco nell'acqua, la caccia all'assassino prosegue e gli investigatori cercano di ricostruire gli ultimi spostamenti dei Rowey, cioè quelli del periodo precedente alla loro morte. Scoprono che Chantel aveva iniziato un nuovo lavoro come cameriera quella settimana e aveva trascorso un paio di notti a casa di un'amica perché lei abitava più vicina al posto di lavoro. Sulla sua candidatura Chantel aveva proprio inserito l'indirizzo di residenza dell'amica per ragioni pratiche. La polizia viene anche a sapere che, due notti prima che i cadaveri venissero trovati, cioè la sera di sabato 6 novembre 2010, Andrew e Rose erano andati a una festa nella città di Adelaide mentre Chantel aveva organizzato una piccola riunione visto che aveva l'abitazione tutta per sé. Aveva invitato gli amici e il suo fidanzato Dylan Pratt. I ragazzi avevano passato una bella serata, avevano mangiato degli snack e guardato un film. Qualche invitato alla fine era tornato a casa sua mentre qualcun altro aveva deciso di restare a dormire da Chantel visto che Andrew e Rose sarebbero rientrate direttamente la mattina seguente. Infatti una volta rincasati i genitori si erano resi conto della presenza di alcuni ospiti. Allora Andrew aveva acceso il barbecue e tutti insieme avevano gustato un delizioso pranzo domenicale. A prese queste informazioni la polizia intende parlare con tutte le persone che avevano partecipato alla serata da Chantel. Forse uno degli invitati è coinvolto nel triplice omicidio? Tutti gli interrogati in realtà si dimostrano collaborativi e disponibili a supportare le indagini della polizia. Ben presto gli investigatori concludono che nessuno di loro ha qualcosa a che fare con la morta dei Rowey. Gli agenti parlano anche con il fidanzato di Chantel, Dylan Pratt, che era stato considerato un potenziale sospettato. Ciò nonostante, a detta di tutti, la coppia aveva una relazione sana basata sulla fiducia, lo testimoniano i tanti amici in comune. Dylan amava Chantel, non aveva motivo di volerla morta e piaceva anche ad Andrew e Rose. Il ragazzo collabora con la polizia in ogni modo possibile, parla tranquillamente con gli investigatori e fornisce loro un elenco dei nomi degli amici che erano a casa Rowey quella notte. Dylan viene escluso dalle indagini e anche gli amici di Chantel si mettono a disposizione e consentono ai detective di accedere ai loro profili social personali, in modo che possano analizzare le dinamiche relazionali all'interno della comitiva. La polizia, dunque, non ha ancora consolidato una lista di sospettati. Anzi, non ha la minima idea di chi possa aver commesso il crimine. Intanto, a casa dei Rowey, le squadre della scientifica stanno cercando indizi o prove. Sperano di trovare delle tracce del DNA dell'assassino. E ci riescono. Individuano un'impronta digitale insanguinata sulla porta della camera da letto di Chantel, che non corrisponde a nessun componente della famiglia. Di conseguenza, la polizia è convinta che appartenga all'autore del reato. Purtroppo, l'inserimento dell'impronta digitale nel database nazionale non fornisce alcun riscontro. Questo vuol dire che il colpevole è incensurato, o non aveva mai commesso un crimine in precedenza, o, in caso contrario, non è mai stato catturato. In ogni caso, questa non è l'unica traccia di DNA dell'assassino che la polizia riesce ad ottenere. Infatti, oltre a sangue, rileva anche il suo liquido seminale. Come ricorderete, l'aggressore aveva esercitato violenza intima sulla giovane vittima, e gli esperti riescono a raccogliere delle tracce di sperma dal corpo di Chantel. Dopo aver condotto alcuni test, gli scienziati forensi riescono a ottenere un profilo genetico del seme, ma anche in questo caso il database non evidenzia alcuna corrispondenza. La polizia in effetti è delusa, ma pure incoraggiata dall'aver ricavato un'informazione importantissima, cioè il DNA del colpevole. Dunque, gli agenti avrebbero potuto confrontarlo con quello dei futuri sospettati. Intanto i detective chiedono a tutti i maschi presenti nella vita di Chantel di fornire il proprio DNA, così da poter quantomeno escludere questi soggetti dall'indagine definitivamente. Gli investigatori riesaminano tutte le dichiarazioni rilasciate da questi ragazzi. Restano colpiti da una in particolare, quella del diciottenne Jason Downey, amico del fidanzato di Chantel, che però frequentava anche la ragazza. La polizia aveva parlato con Jason all'inizio delle indagini, ma in quel momento non aveva ravvisato in lui niente di sospetto. Tuttavia, rileggendo la sua dichiarazione, si sofferma su un atteggiamento ambiguo. Jason Downey aveva già fornito un alibi per la notte del triplice omicidio dei Rowey, senza che nemmeno gli agenti glielo avessero chiesto. Perché questa mossa preventiva? Jason aveva riferito di essersi recato in un'altra città vicina, dove aveva preso qualcosa da mangiare. Oltre a fornire questo alibi, di sua spontanea volontà si era anche lamentato di non avere una ragazza e aveva precisato che non era stato invitato alla riunione tra amici organizzata a casa di Chantel, il sabato sera prima dei delitti. Questa circostanza agli investigatori appare strana, quindi decidono di indagare in modo più approfondito su Jason Downey, che diventa una potenziale persona di interesse. Gli investigatori parlano di nuovo con i diciottenne il 14 novembre 2010, sei giorni dopo i delitti. Adesso notano subito che il ragazzo ha molti tagli e ferite profonde, principalmente sulla mano sinistra. Come sappiamo, i membri della famiglia Rowey sono stati uccisi a coltellate e avevano lottato contro l'assassino, quindi probabilmente anche il colpevole si era ferito durante l'attacco. Forse il coltello gli era scivolato più volte e per recuperarlo si era provocato quei tagli. Quando i detective gli domandano come ha fatto a ferirsi, Jason spiega che ha avuto un incidente di recente. Era caduto dalla sua bicicletta e si era fatto male, soprattutto alla mano. Gli investigatori gli chiedono se è disposto a fornire un campione del suo DNA e lui accetta senza problemi, come se non avesse nulla da nascondere. Dunque, una volta prelevati il campione di DNA e le impronte digitali, vengono eseguiti i test in laboratorio e meno di due giorni dopo arrivano i risultati. Il DNA di Jason corrisponde allo sperma raccolto dal corpo di Chantel e anche l'impronta ritrovata sulla porta della camera da letto della ragazza, appartiene a lui. Parliamo dunque di Jason Downey, che da questo momento viene considerato l'assassino della famiglia Rowey. Jason non è australiano, ma è originario di Kilmanock, un paese che si trova in Scozia, nel Ayrshire orientale. All'età di 14 anni si trasferisce con la madre Lorna e il fratello Jamie dall'altra parte del mondo, appunto a Capunda, in Australia. Secondo alcune fonti, il ragazzo non ha mai avuto la possibilità di conoscere il proprio padre biologico, perché l'uomo aveva abbandonato la famiglia quando Jason aveva soltanto un paio di mesi. Dunque, Jason è cresciuto senza la guida di una figura paterna, ma ora la famiglia si sposta in Australia perché Lorna ha una relazione con un uomo che vive lì e vuole stargli più vicino. Jason in realtà ha anche una sorella, Jodie, ma lei decide di rimanere in Scozia. Comunque dopo il trasferimento Jason ha difficoltà ad ambientarsi a Capunda, non riesce a socializzare con i coetanei e molti pensano che sia un tipo piuttosto strano, con pochi amici, solitario. Jason conosce Chantel perché inizia a frequentare la stessa scuola in cui è iscritta lei, ma, come detto, è amico soprattutto del fidanzato di Chantel, tanto che qualche volta si sono ritrovati a uscire tutti e tre insieme. Jason ha un modo di fare un po' goffo, eppure a tratti sembra eccessivamente sicuro di sé. Quando scrive dei post sui social media è piuttosto esplicito nell'esprimere le sue sensazioni. Ad esempio non nasconde il fatto che odia la città di Capunda e la definisce Crapunda con fare dispregiativo. Inoltre Jason si vanta di essere atletico e popolare tra le ragazze, come quando scrive, amo il mio sport, sono molto attivo dentro e fuori dal campo da basket, se capisci che intendo. Nel suo profilo Facebook indica anche chi ha una relazione, ma non è vero. La realtà è che Jason è single, ma si strugge proprio per Chantel, la ragazza del suo amico Dylan. Chantel, in verità, non ha una grande stima nei confronti di Jason, ma è gentile con lui perché è un amico del suo fidanzato. Jason però si è preso una cotta smisurata per lei. Vorrebbe proprio stare con la ragazza di Dylan, è sempre più infatuato di Chantel. Lei continua semplicemente a essere educata con lui pur avendo percepito di piacere a Jason. Chantel non gli dà affatto modo di credere di essere ricambiato, ma Jason fraintende ogni sorriso e ogni parola cortese della ragazza. In realtà anche Dylan si è accorto della cotta di Jason, ma non si preoccupa, anzi ci ride su perché sa che Chantel non lo tradirebbe mai. Siccome si dispiace che il ragazzo arrivato dalla Scozia abbia così pochi amici, ignora la sua spavalderia ed evita di metterlo da parte. Dylan, armato di buone intenzioni, non comprende fino in fondo che ormai Jason è diventato ossessionato dalla sua ragazza, che il suo interesse sta prendendo risvolti oscuri. Nemmeno Chantel vuole farne un dramma, ma scopriranno gli investigatori controllando il suo telefono e gli account social. Jason l'è importuna su Facebook e non solo invade i suoi spazi online, ma gironzola davanti a casa sua, è sempre nelle vicinanze, la perseguita quando torna da scuola. Chantel però sopporta le sue avanze indesiderate per il bene di Dylan, il quale non conosce la reale portata dell'assalto di Jason. Il confine tra ossessione e risentimento è in lui così labile che sfocia in una rabbia spietata. Dunque, quando la polizia viene a conoscenza di tutte queste informazioni, delinea il vero movente dell'omicidio della famiglia Rowey. Le teorie iniziali degli investigatori non erano infondate. L'intenzione dell'aggressore era quella di uccidere Chantel, perché era geloso del suo amico Dylan e perché lei non lo ricambiava. Jason in pratica aveva deciso che, se lui non poteva averla, allora non l'avrebbe avuta nessun altro. Quando i test di laboratorio evidenziano la corrispondenza tra il DNA dell'assassino e quello di Jason Downey, la polizia studia un piano d'azione per arrestarlo, considerando che è pure un soggetto pericoloso. Recarsi a casa sua potrebbe comportare dei rischi per i familiari che vivono con lui. Gli agenti non escludono infatti che il ragazzo possa prendere in ostaggio la madre o il fratello per impedire di essere catturato. Per lo stesso motivo non intendono effettuare l'arresto nemmeno presso l'officina dove Jason lavora come meccanico. Vogliono preservare l'incolumità dei colleghi e degli stessi poliziotti, visto che in un garage ci sono diversi strumenti che Jason potrebbe usare come arma contundente. La polizia quindi decide di procedere in modo diverso, si mette in contatto con Jason e gli chiede se può passare un attimo alla stazione di polizia per firmare la dichiarazione che aveva rilasciato precedentemente. Lui accetta senza dubitare ma appena mette piede lì dentro viene arrestato perché è sospettato di essere l'assassino della famiglia Roy. Dopodiché Jason viene interrogato ma nega qualsiasi coinvolgimento negli omicidi affermando che conosceva Chantelle Roy a malapena. La polizia allora gli chiede com'è possibile che ci siano tracce del suo sperma all'interno del corpo di Chantelle. Come fa a essere innocente? Jason spiega di aver avuto un rapporto intimo consensuale con Chantelle mesi prima che lei venisse uccisa. Il detective quindi lo fissa e lo informa che se fossero davvero passati dei mesi dall'atto il suo dna non sarebbe stato rilevato. Jason a questo punto si ammutolisce. Non sa che cosa rispondere e si attiene alla versione che ha fornito nella sua dichiarazione originale. Aggiunge però qualche particolare in più. Ripete di avere un alibi. Quella sera aveva litigato con sua madre prima di uscire e di conseguenza non era proprio rientrato a casa a dormire ma aveva deciso di passare la notte in macchina. Tuttavia Jason non può provare ciò che sta affermando. Il suo alibi non può essere confermato e la polizia sa che sta mentendo. Quelle del dna sono prove solide che lo collegano al crimine. È lui l'assassino. Jason viene accusato di tre capi di omicidio eppure non molla. Continua ad affermare di non essere il responsabile e oltre a negare con la polizia lo fa anche con la sua famiglia. Infatti mentre è in custodia scrive diverse lettere ai suoi cari affermando di non essere lui il colpevole. Tuttavia confessa ai parenti che era stato a casa dei Rowey la notte degli omicidi ma precisa che non era stato lui a ucciderli. Ovviamente la polizia visiona il contenuto di queste lettere dato che Jason è in stato di fermo. L'indagato racconta ai suoi parenti una storia completamente inventata. Cioè chi aveva visto un uomo con in mano una borsa della spesa di colore verde e vestito con abiti scuri entrare in casa Rowey quella notte. È lui l'assassino. Alla sua famiglia Jason scrive anche che lui era nell'abitazione proprio quando si è verificato l'attacco dell'assassino che ha cullato il chantel e l'ha assistita mentre giaceva per terra morente. Tuttavia ribadisce di non averla uccisa. Questa versione assurda c'è da dire che Jason non la riporta mai alla polizia. Probabilmente perché si rende conto che non sta in piedi. In ogni caso dato che Jason nega qualsiasi coinvolgimento nel crimine i detective sono convinti che si dichiarerà non colpevole e che quindi dovrà sostenere un processo. Prima che il caso finisca in tribunale la polizia vuole assicurarsi di avere prove schiaccianti contro Jason per non rischiare che venga solto. Di conseguenza mentre il ragazzo è in custodia gli investigatori continuano a indagare e trovano ulteriori elementi che inchiodano Jason al delitto. Tanto per cominciare la polizia aveva raccolto sulla scena del crimine una macchina fotografica digitale di proprietà dei Rowi. Le ultime foto scattate risalgono al pomeriggio di domenica 7 novembre quindi al giorno prima della strage. Ritraggono la famiglia durante il pranzo e in fotografie Chantel tiene in mano una chiavetta usb. Durante una perquisizione a casa di Jason che ora è il principale sospettato la polizia ritrova proprio la pen drive di Chantel nella camera da letto del ragazzo mentre il gancino di corda a cui era attaccata viene individuato nella sua macchina. Quindi Jason aveva rubato la chiavetta dopo aver compiuto il triplice omicidio. Sempre nell'automobile del ragazzo la polizia rileva anche delle tracce ematiche e a seguito di un esame viene stabilito che il sangue appartiene a due delle vittime Andrew e Rose. Quando invece la polizia perquisisce il computer portatile di Chantel scopre che la notte del massacro qualcuno aveva cercato di accedervi ma non ci era riuscito perché ignorava la password. Inoltre si evidenzia una piccola traccia di sangue sulla tastiera. Si ritiene dunque che è stato Jason Downey a cimentarsi in questo inutile tentativo. Alcune impronte di scarpe insanguinate rilevate sempre sulla scena del crimine corrispondono alla misura dei piedi di Jason. La madre afferma che il ragazzo possedeva solo tre paia di scarpe ma che uno di questi non è più in casa. Quindi Jason si era sbarazzato delle scarpe che indossava quella notte. Oltre a queste ulteriori prove vi ricordo quelle più schiaccianti. Il liquido seminale dell'assassino che corrisponde al DNA di Jason e l'impronta digitale insanguinata ritrovata sulla porta della camera da letto di Chantel che pure appartiene al ragazzo. La polizia dunque è ormai convinta di poter dimostrare ai giudici che l'autore del triplice delitto è Jason Downey. E lui questo lo sa bene. Infatti finalmente decide di dichiararsi colpevole di tutte le accuse. Dinanzi a quella montagna di prove niente può scagionarlo. Tanto vale confessare e sperare di ottenere una pena più leggera. Quando si diffonde la notizia dell'arresto di Jason tutti rimangono sbalorditi. Quel ragazzo straniero un po' gracilino che faceva l'apprendista meccanico era apparso a tutti come anonimo ma anche innocuo. Non aveva davvero mai assunto comportamenti violenti, non aveva mai avuto problemi di abusi sostanze e sebbene avesse un rapporto instabile con sua madre le voleva molto bene, era vicino alla sua famiglia. Nessun elemento quindi suggeriva che questo adolescente fosse un triplice assassino. Nonostante la sua dichiarazione di colpevolezza l'accusa espone ugualmente tutte le prove in tribunale e presenta la propria versione degli eventi accaduti quella notte. Come vi ho già detto prima Jason aveva sviluppato un'ossessione per Chantelle Rowey. Lui voleva stare con lei ma lei non era interessata a lui perché stava già insieme a un amico di Jason, Dylan. Due giorni prima degli omicidi, sabato 6 novembre 2010, Chantelle aveva invitato alcuni amici e il suo fidanzato Dylan a casa propria per guardare insieme a un film e mangiare qualcosa mentre i genitori erano ad Adelaide per una festa. Jason Downey non era stato invitato alla serata a casa di Chantelle e l'accusa crede che questo lo avesse fatto piuttosto arrabbiare. Dopo la serata a film alcuni ragazzi erano rimasti a dormire da Chantelle ma non Dylan che aveva dovuto rincasare. Gli altri ospiti invece si erano goduti un buon pranzo il giorno seguente ma quella domenica Chantelle aveva iniziato a sentirsi poco bene a causa di un raffreddore. Infatti durante il pomeriggio la ragazza aveva mandato un messaggio al suo fidanzato per dirglielo. Aveva bisogno di andare a dormire presto e di prendersi lunedì libero dal lavoro. Chantelle infatti aveva avvisato anche il suo capo del malanno inviandogli un sms. Dylan intanto parlando del più e del meno con il suo amico Jason gli aveva accennato che Chantelle era malata e che quella sera non si sarebbero visti. L'accusa quindi ritiene che Jason abbia colto questa opportunità per avvicinarsi a Chantelle indisturbato. L'imputato voleva avere un rapporto intimo con lei anche se la ragazza non la consentiva. Così intorno a mezzanotte del 7 novembre 2010 Jason si era diretto verso Harriet Street, si era introdotto nella casa dei Rowey attraverso la finestra del bagno, era rimasto nascosto per un po', poi si era fatto coraggio ed era entrato nella camera da letto di Chantelle. Aveva con sé due coltelli di cui uno appena preso dalla cucina della famiglia Rowey. Una volta nella stanza di Chantelle Jason l'aveva aggredita all'istante e siccome lei provava a rispingerlo lui l'aveva appugnalata ripetutamente. A questo punto Andrew e Rosa avevano sentito le urla di spavento della figlia ed erano accorsi in camera sua, ma Jason si era avventato anche su di loro e li aveva massacrati a colpi di coltello. I genitori avevano provato a reagire, infatti la violenta collutazione si era estesa in tutta la casa, producendo uno spargimento di sangue in ogni stanza. L'accusa ritiene che Andrew e Rose, già gravemente feriti, avevano provato a scappare ma probabilmente erano scivolati e caduti diverse volte, fino a non riuscire più ad alzarsi e difendersi. Jason allora era risalito al piano superiore ed era rientrato nella camera di Chantelle, ferita, dolorante, ma ancora viva. Si era nascosta sotto il letto, era troppo indebolita per riuscire a fuggire e straziata dalle gride emesse dai suoi poveri genitori mentre Jason li pugnalava. L'assassino l'aveva trascinata fuori dal nascondiglio e l'aveva scaraventata sul letto per esercitare di nuovo violenza intima su di lei e contemporaneamente colpirla. Chantelle in tutto aveva ricevuto 33 coltellate e viene stabilito che, una volta morta, Jason le aveva sfilato gli abiti insanguinati e le aveva messo addosso dei vestiti puliti. Infine, aveva lasciato il suo corpo sul letto. A questo punto, secondo la polizia, Jason aveva provato a ripulire la scena del crimine, ma poco dopo ci aveva rinunciato. C'era davvero troppo sangue. Quindi era tornato in cucina, dove giaceva il corpo di Andrew e aveva continuato a pugnalarlo, giusto per assicurarsi che fosse davvero morto. Poi aveva fatto la stessa cosa con Rose, che però, secondo la polizia, era davvero ancora viva e stava cercando di trascinarsi verso la porta sul retro per tentare la fuga. Ma Jason era riuscito a raggiungerla e l'aveva pugnalata di nuovo. In totale a Rose erano state inferte 50 coltellate. Alcune fonti riportano che Andrew e Rose erano stati colpiti con una forza e una ferocia davvero notevoli, tanto che alcuni pezzi del coltello, l'arma del delitto, si erano staccati ed erano stati ritrovati all'interno delle loro ferite. Una volta sicuro di aver ucciso tutti i rowi, Jason era uscito dalla casa, abbandonando la scena del crimine. Dopo la dichiarazione di colpevolezza, Jason aveva spiegato alla polizia di essersi liberato di alcune prove. Ad esempio aveva gettato le scarpe e i vestiti indossati quella notte e aveva indicato agli agenti dove avrebbero potuto ritrovarli. Loro infatti li avevano poi recuperati. Jason si era disfatto anche di alcuni oggetti usati per cercare di ripulire la scena del delitto e dei due coltelli con cui aveva ammazzato le vittime. Le forze dell'ordine avevano provato a rintracciare anche quelli, ma purtroppo non erano riusciti a trovarli. Jason, dopo essersi sbarazzato dei vestiti e delle armi, aveva dormito in macchina quella notte. Il giorno seguente si era comportato come se nulla fosse successo, era andato a lavorare e la sera aveva anche partecipato a una festa a tema natalizio con i colleghi. Quando aveva visto la notizia della strage dei rowi al telegiornale, Jason si era finto addolorato per il suo amico Dylan, triste per la morte di Chantelle. Aveva chiesto al suo datore di lavoro il permesso di tornare a casa un po' prima e di rimanerci pure il giorno successivo, perché profondamente sconvolto dalla notizia. Molti abitanti della cittadina si erano diretti in area street per rendere omaggio alle vittime, lasciando cartoline e mazze di fiori. E tra loro c'era anche Jason, che era stato addirittura ripreso dalla telecamera di un notiziario, mentre adagiava a terra un orsacchiotto e un biglietto accanto ai fiori portati dalle altre persone intervenute per esprimere cordoglio. Sul biglietto di Jason c'era scritto. A Chantelle, che tu possa essere sempre ricordata, non ti dimenticherò mai, mancherai a tutti. Firmato Jason. Queste azioni, se possibile, rendono ancora più insopportabile il suo crimine. Jason aveva tolto la vita a tre persone innocenti con inaudita brutalità e poi aveva avuto il coraggio di presentarsi davanti a casa loro con un orsacchiotto e delle parole artefatte. Credo sia davvero disgustoso. Nell'aprile del 2012, circa un anno e mezzo dopo il crimine, il ventenne Jason Downey viene condannato all'ergastolo per gli amicidi di Andrew, Rosemary e Chantelle Rowey, con un minimo di 35 anni da scontare in prigione prima che possa essere presa in considerazione la libertà condizionale. In seguito Jason scrive una lettera in cui si scusa con gli amici e i familiari delle sue vittime, che vi leggo immediatamente. A tutti gli amici e la famiglia di Chantelle, Andrew e Rosemary Rowey. Prima di tutto vorrei scusarmi per le mie azioni dell'8 novembre 2010. Sono profondamente dispiaciuto per le mie azioni. Ho ferito molte persone per quello che ho fatto. So che qualunque sia la mia sentenza non sarà mai abbastanza. Ho causato così tanto dolore non solo alla mia famiglia, ma a molti altri. So che queste scuse potrebbero non significare molto per parecchie persone. Sento di dover chiedere scusa perché tutta questa situazione mi sta divorando vivo. Avevo una carriera, una macchina, amici e soprattutto la mia famiglia. Ora, a causa delle mie azioni, non ho più nulla e per quanto ho di ammetterlo mi merito tutto ciò che mi accadrà. Mi assumo la piena responsabilità delle mie azioni. Vorrei anche scusarmi con il fratello della vittima, Christopher Rowey. Non riesco a immaginare come mi sentirei se perdessi le persone più importanti della mia vita. Voglio che voi sappiate che se potesse tornare indietro nel tempo e correggere i miei errori, lo farei in un istante, ma sfortunatamente non posso farlo. Ancora una volta mi scuso sinceramente per le mie azioni dal profondo del cuore e mi dispiace davvero. Ora io vorrei esprimere un mio personale pensiero che non deve essere per forza condiviso anche da voi. Anzi, lasciatemi le vostre opinioni nei commenti. A mio parere questa lettera urla autocommiserazione a gran voce. La parte in cui Jason scrive aveva una carriera, una macchina, amici e soprattutto la mia famiglia, ora, a causa delle mie azioni, non ho più nulla. Mi fa pensare che lui si senta più dispiaciuto per se stesso, per ciò che ha perso e meno addolorato per la famiglia e gli amici delle vittime, a cui ha distrutto completamente le vite. Christopher Rowey si rifiuta persino di leggere questa lettera comprensibilmente. Sa bene che le parole di Jason non potranno mai alleviare il dolore di cui soffrirà per sempre. E come potrebbe essere diversamente? Le persone a lui care sono state brutalmente uccise e non a causa di un imprevedibile e tragico incidente, ma per scelta di un ragazzino ossessivo e spietato. Questo ci porta alla fine di questo video, io quindi ho terminato di parlarvi di questo caso, fatemi sapere cosa ne pensate voi di questo caso, io lo trovo davvero assurdo, davvero tanto assurdo, non comprendo fino a fondo le ragioni di Jason, onestamente, però si sa che l'ossessione fa fare delle cose assurde alle persone e Jason era sicuramente ossessionato, però non aveva mai mostrato comportamenti problematici prima, quindi questo l'ho trovato una cosa interessante. Ecco, fatemi sapere che cosa ne pensate di questo caso, come già vi ho detto, quindi scrivetemi qua sotto quello che volete, io nel frattempo vi mando un bacione e ci vediamo prestissimo al prossimo video, mi raccomando fate i bravi, continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene, ma soprattutto prendetevi cura di voi e fate ciò che vi rende felici, basta che non facciate nulla di criminale. Ciao a tutti! Grazie a tutti!